Uffa, ma quando arriva il lunedì? Perché? Ma perché c'è gole ad azzurra? Ogni lunedì sera sul canale Partenope TV numero 188, il buio a 190, Sky 823, ci siamo noi, conduce in studio Paolo Mercurio, opinionista, fortuna, utiero e tanti ospiti per commentare la partita del Napoli che è stata e quella che sarà. Ci state? E allora lunedì sera, ore 21, gole ad azzurra!